Siamo al Parco del Castello con il senatore Gaetano Quagliariello per commentare all'indomani dell'incontro della Meloni con i vertici regionali per la scelta del candidato presidente alle prossime regionali per commentare la terna che è venuta fuori da questo incontro. Una terna che è veramente un po' ballerina nel senso che succede tutto al contrario di tutto. Io non ho apprezzato in modo particolare il fatto che ci fosse una divisione partitica delle tre regioni che vanno al vuoto, una a Forza Italia, una alla Lega, una a Fratelli d'Italia. Io avrei preferito un metodo differente. Detto questo mi sembra che la terna scelta da Fratelli d'Italia abbia un suo equilibrio perché i profili rispondono a tre logiche. Uno è un uomo di partito che ha dato prova di sé anche come assessore regionale, mi riferisco a Morra. Un altro è un esponente della società civile e il terzo è un esponente nazionale ed un uomo anche di equilibrio e di esperienza. Marsilio. Marsilio non è abruzzese ma ha un legame con l'Abruzzo. Ecco, questa è la cosa di cui accusano i locali, i vertici locali Marsilio. Vogliono un'abruzzese. Marsilio non lo ritengono tale, pur avendo dei Natali, no, abruzzesi? Io sono in tanti anni in Abruzzo ma non sono un abruzzese. Credo di essere stato comunque apprezzato almeno dal punto di vista elettorale. Io credo che aprirsi ad uomini che hanno rapporti con questo territorio e anche un orizzonte nazionale non sia una scelta sbagliata. Però quello che è importante è che ora ci si fermi a questa terna e si scelga dentro questa terna. Perché se questo è il passaggio di una specie di tela di Penelope, noi rischiamo di perdere una elezione vinta e io temo che poi a un certo punto ci sia il Tana Libera Tutti. Poiché non sono per il Tana Libera Tutti, lo chiarisco, vorrei che questa sia la terna definitiva e dentro questa terna si scelga, con un criterio che non può essere l'esame del sangue per vedere il tasso di abruzzesità. Quello è un elemento che va considerato, ma non il solo. Anche perché, mi perdoni senatore, ma il centro-sinistra sta tessendo una bella rete per preparare il piatto a Giovanni Legnini, un nome assolutamente autorevole che il centro-destra deve affrontare con tempo per creare una buona campagna elettorale e per dare risposte concrete a questa regione. Io credo che non aspetti altro che un segnale di soluzione del centro-destra. A quel punto è evidente che tutti saranno autorizzati a fare delle proposte, a avere anche delle soluzioni che vadano oltre i poli. Io non credo sinceramente che Legnini si candiderà mai come candidato del centro-sinistra. Legnini si potrebbe candidare come candidato di qualcosa di più ampio e di più comprensivo nel momento nel quale gli verrà data la possibilità. Poi a quel punto non ce la prendiamo con lui, prendiamocela con noi. Tant'è vero che gli hanno già preparato, sembra otto liste. Comunque io quello che vedo dall'esterno mi sembra che la Terna tradisca ancora la frattura fra la direzione abruzzese e la Meloni. Secondo me la Meloni ha messo Marsilio, grande senatore, stimato da lei perché lei vuole Marsilio, mentre invece i vertici regionali ancora cercano l'abruzzese. Io non entro nelle logiche di partito. So che qui all'Aquila questo candidato sarebbe apprezzato anche da esponenti importanti di Fratelli d'Italia. Questo lo so per certo e secondo me la cosa ha una logica perché l'Aquila ha bisogno, come il pane, di una proiezione nazionale, di riprendere una proiezione nazionale. E questo evidentemente lo può fare ancora di più e con più autorevolezza chi ha un legame forte con la terra e la gente di questo territorio ma d'altra parte ha anche un profilo di carattere nazionale. Grazie.